Terzo posto In Europa Quinto posto nel mondo Circa 6.000 rose Volete sapere dove ci troviamo? Alba Cunarose Rocca antica La Tacita In provincia di Rieti E dopo aver visitato questa meraviglia Andiamo a curiosare Laddove ci sono le rose in concorso E saranno decretate Le rose più belle dell'anno Nella loro categoria Mi trovo in compagnia del Dottor Mece Proprietario della Tacita Nonché ideatore di questa meraviglia Che abbiamo appena visto Dottor Mece Come è arrivato All'ottava edizione Di questa giornata Così interessante Dedicata alle rose Diciamo che Ho realizzato un sogno Che coltivavo da tantissimi anni Da quando ero bambino E quando abbiamo Ci siamo accinti a fare nel 2000 I lavori di questo roseto Il presidente della Federazione Mondiale delle Rose Ne esiste una sola Era curioso Di sapere Che cosa stavamo facendo Venne qui Con due ispettori Controllò tutte le rose Che noi avevamo 5500 varietà E ha detto Lei deve assolutamente Entrare a far parte Della unica federazione mondiale delle rose Perché lei sta ai vertici E così abbiamo appreso Di essere numero uno al mondo Dal punto di vista concettuale E numero due Dopo Sangerhausen in Germania Dal punto di vista varietale E da allora Ogni anno Teniamo un concorso Che è dedicato Alle rose Messe in circolazione Da meno di 5 anni E dopo aver visto Le meravigliose rose vincitrici Appuntamento al prossimo anno Ciao 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 Ciao